le immagini che abbiamo visto sono riferibili a un luogo molto particolare del deserto che si chiama Tassili è una zona che è diventata patrimonio dell'UNESCO perché in essa vi sono appunto antichissime raffigurazioni rupestri della figura umana siamo in Algeria e ora si vede la cartina del deserto in pieno deserto dove praticamente anni fa sono state scoperte queste incisioni rupestri la datazione è stata diciamo stabilita intorno all'8-9000 avanti Cristo quindi si tratta di raffigurazioni molto ma molto antiche qui invece vediamo una ricostruzione di come poteva presentarsi il deserto del Sahara circa 12.000, 10-12.000 anni fa infatti era una verdissima pianura anzi anche un po' in montagna eccetera eccetera ma comunque era tutto un ambiente di boschi dove praticamente c'era moltissima selvaggina e si erano stabilite molte civiltà dunque quello che noi conosciamo il deserto di oggi 10.000, 15.000 anni fa non era affatto non si presentava affatto in questo modo le testimonianze che ci sono rimaste nel deserto custodette nel deserto nelle caverne sono di una grandissima capacità e di una forza artistica ed espressiva veramente incredibili oltre ad una conoscenza abbastanza approfondita delle proporzioni del corpo umano ora dall'Africa torniamo invece in Europa in due località precise una che si trova a Willendorf vicino a Vienna precisamente già sotto dopo le Alpi e un'altra località archeologica invece si trova ai piedi dei Pirenei nella zona francese bene in questo punto sono state trovate diverse statuette, statuine in osso oppure in pietra raffiguranti le famose Veneri del Paleolitico che sono figure femminili che rappresentano appunto la grande madre della fecondità queste figure sono particolari perché esaltano appunto i fianchi la zona del seno, dei fianchi e quindi ci colpiscono proprio per la loro possenza e grandezza pur nelle dimensioni assolutamente minime nel Paleolitico ci sono le prime raffigurazioni umane che sono le grandi madri chiamate Veneri sono state trovate in tutta Europa Asia e Africa le più antiche che sono state trovate in Marocco ne abbiamo una che si chiama Venere Tantan che è datata addirittura fra il 500.000 e il 300.000 avanti Cristo ne abbiamo poi altre che sono molto antiche come la Venere di Berekant Ram nelle alture del Golan in Siria che vanta una datazione dal 230.000 avanti Cristo ne abbiamo anche in Germania che sono del 40.000-35.000 avanti Cristo la Venere di Willendorf che è rappresentata nel vostro libro di testo a pagina 19 dal 24.000 avanti Cristo ne abbiamo anche trovate in Italia come per esempio la Venere di Paramita che è in osso di cavallo ed è del 12.000 o 14.000 avanti Cristo queste rappresentazioni continuano anche nel Mesolitico e nell'età fra il Paleolitico e il Neolitico le più antiche però non sono state fatte, realizzate dall'uomo Sapiens ma addirittura dall'uomo di Neandertal la Venere di Willendorf è una parola tedesca per cui non so se si lega così però è praticamente a tutt'oggi quella che viene considerata una delle più antiche raffigurazioni del corpo umano si tratta di una figura che è stata realizzata 30.000 avanti Cristo nel 30.000 avanti Cristo quindi è veramente imponente quello che ci stupisce è che vabbè al di là del fatto che il viso non viene qui raffigurato ma viene raffigurato in maniera piuttosto pesante, potente il sesso e diciamo i segni e le braccia o forse qualche elemento che lega i segni in basso ma l'elemento che ci fa protendere per una raffigurazione che rappresenta non solo il corpo ma anche la cultura è la conciatura qui definita con delle specie di codini o di trecce La Venere di Les Pug è addirittura assai singolare proprio per questa meditazione che l'uomo del Paleolitico ha fatto sulle forme geometriche essenziali sui cerchi, sulle sfere e sugli ovali Soltanto nel periodo del Neolitico compaiono le prime raffigurazioni di guerrieri l'uomo passa da una civiltà di raccolta e di caccia alla civiltà agricola e qui cominciano i primi scontri nell'accapparrarsi i territori per le scorte alimentari e per l'allevamento fra le più antiche pitture rupestridi sono quelle i dipinti di Tassili nel deserto algerino di cui abbiamo parlato all'inizio del video datate fra i 9.000 e il 10.000 avanti Cristo quando il deserto era una fertile prateria più o meno nel medesimo periodo in Sardegna sono state trovate le gigantesche statue di guerrieri delle culture nuragiche questi giganti si trovano in un posto che si chiama Monte Prama e sono datate fra il XIII e il IX secolo avanti Cristo proprio vicino ad una necropoli mentre altre statuette in bronzo sono state trovate nelle zone vicine alle costruzioni dei nuraghi che non sono altro che piccoli villaggi con forni e escorte alimentari cerealicole costruzioni in pietra formate da pietroni veramente di tipo megalitico lo stile è molto geometrizzato ed è singolare che sia uno stile molto vicino ad altri luoghi e altre civiltà che hanno realizzato nel medesimo periodo delle sculture geometriche come quelle delle isole cicladi che sono fra l'attuale Turchia e Grecia lo stile delle isole cicladi si chiama appunto stile dedalico dal mito di Dedalo figlio di Icaro personaggio della mitologia greca della pittura greca se si esclude la pittura dell'arte minoica e micenea non è rimasto nulla in quanto le opere pittoriche dei greci venivano realizzate su tavolette di legno probabilmente dipinte a tempera all'uovo o a tempera mescolata con la cera dunque tutto quello che noi conosciamo della pittura greca deriva dai vasi greci i più antichi sono in stile geometrico e hanno figure nere su fondo rosso uno di questi è più famoso è il dipilon di Atene che avete già sul vostro libro a pagina 80 insegnarti il libro si chiama insegnarti di Teresa Tronfi giunti treccani dunque il dipilon di Atene è datato 750 avanti cristio è un grande vaso di 155 centimetri ed è conservato al museo archeologico di Atene è dipinto a figure nere che rappresenta il dipinto a figure nere che rappresenta un funerale conteneva quindi e questo vaso conteneva le ceneri di un defunto le figure sono geometrizzate e stilizzate di Atene